Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di minecraft Oggi andiamo a costruire la nostra barchetta vicino al porto Allora, la voglio fare qui Quindi adesso devo prendere un po' di terra per farmi la base Allora, ponte fatto, in terra Adesso prendiamo le nostre slab e ne mettiamo tre così E, ops, sopra poi ragazzi dobbiamo andare a metterci i nostri blocchi Quindi quattro in questa direzione E quattro nell'altra Tre, quattro, una, due, tre, quattro e nove con questo qui centrale Poi mi servono delle trapdoor Allora, le nostre trapdoor dobbiamo metterne una qui e una di là E in questo modo Perfetto Questa qui sarà la nostra parte in acqua Adesso la terra possiamo anche levarla che poi me ne dimentico Bene, adesso che ho messo la riga ragazzi E lì ho messo uno slab Dobbiamo andare a mettere i blocchi qui sopra In questo modo Ragazzi, ora che abbiamo fatto questo Dobbiamo mettere uno, due, tre Poi due slab di qua E lo stesso dobbiamo farlo anche dalla parte opposta Dopodiché riprendiamo il nostro slab E andiamo a posizionarle sempre ai lati Mentre ragazzi andiamo anche a dormire che ci sta facendo notte E poi si torna al lavoro Ragazzi, prendiamo i blocchi e copriamo tutto sopra Andando fuori di uno dalle slab Dalla parte della punta poi ragazzi Dobbiamo prendere una scaletta Uscire con un blocco Una scaletta E una slab In questo modo qui E anche dietro ragazzi Posizioniamo una bella scalettina qui Dopodiché ragazzi Dobbiamo mettere una trapdoor qui Una scaletta Dietro E poi i nostri blocchi Pino alla trapdoor Poi scaletta E trapdoor di nuovo In questo modo Qua ragazzi Mettete le slab Al posto delle trapdoor Come là dietro E poi Aggiungete i blocchi In questo modo In modo da avere questa forma davanti Che sarà la nostra prua Allora ragazzi Mentre facevo il sopra Mi sono accorto che qui avevo sbagliato Qui mancava Cioè qui c'era la scala Al posto del blocco E questo qua va Tirato un blocco più indietro Perché questi qua devono essere tre E io li avevo fatto da quattro Ragazzi per i lati invece Allora Non avendo il legno scuro Userò Il legno non lavorato Per ora Poi lo cambieremo Quando troveremo lo spruce In sostanza bisogna fare i lati Basta seguire il contorno Che gli abbiamo fatto E mettere il legno sopra E uscire con un blocco E Un blocco da Entrambe le parti E una volta arrivati In fondo Si fa questa cosa qui Sul culo della nave I due Mentre davanti Si arriva Qui fuori di uno E poi si va di qua E qui si ne mette Uno molto semplice E tra l'altro Si era pure buggato Ma va bene così Adesso finisco un attimo Il contorno E vi faccio vedere Allora ragazzi Sono andato un bel po' avanti Ho messo Il timone col cartello Per ora lo lasciamo così Perché non credo Ci siano altri modi Per farlo O forse si Magari con una scala E Vabbè Per ora lasciamolo così Poi ho messo un po' di trapdoor Qui in giro Per abbellire Un po' il tutto E ho iniziato a fare La vela Qui qua saranno I punti In cui verrà attaccata La nostra vela Adesso devo andare a fare Quell'altro E questo qua è alto 10 blocchi E qui in cima Abbiamo il Il punto dove Ci sarà Il Il tipo che guarda E Dice terra E eccetera Buon Perfetto Riscendiamo nella nostra scaletta Adesso devo contare 4 Da qui Aia Da Questo blocco qui Riesco a salire Ok Ce l'ho fatta salire Allora Contiamo Prima mangiamo Poi contiamo 1, 2, 3 4 Quindi Tac E Tac E ora dobbiamo andare a farlo anche Da questo lato di qua Bene E ora che abbiamo fatto I bracci del nostro Palo Possiamo chiamarlo palo Possiamo iniziare a metterci I cancellini Che vanno Sopra Alle nostre slab E le nostre fence Adesso ragazzi Non ci resta che fare la vela E niente Ora la buildo poi Vi faccio vedere Ecco andiamo a Dormire per l'ultima volta Ah si qui ragazzi Devo ancora Sistemare il buco Ovviamente Perché Anche se ho la terra in mano Quel buco Non ho voglia di sistemarlo In realtà perché Devo riempirlo Quindi Non ho Tanta voglia Da mettermi lì A riempirlo Ah Però vabbè Dai Ora lo facciamo Dato che siamo qua Poi Mi sembra brutto Lasciarlo qua Vuoto Prima che Esplorata un altro creeper E si crei un buco Ancora più fondo Magari È meglio coprirlo Poi devo anche Ripristinare L'aiguola Perché il creeper Ha distrutto anche quella Purtroppo Purtroppo mi sa che Questa terra qui Ragazzi non mi basta Quindi devo andare A prenderne altra E invece Ce l'avevo nell'inventario Va benissimo Così Sperando che 45 pezzi Bastino Ma ho i miei dubbi Però è sicuramente Più coperto di prima Noe Manca questo Vado a prendermi la terra Vai Vediamo gli ultimi E poi ragazzi Vi faccio vedere L'effetto Della nave finito Aprendo sia venuta Decentemente Lo so Perché la vela Non ne sono molto convinto Eh Però Forse qualcosa È uscito Beh Già da qua Si intravede un po Eccola lì Guardate che bellina A poi lì La nostra piccola nave La vela è Vedete Quel quadrato lì Che manca Non mi ispira molto Però vabbè Per ora Lasciamo una così Ho anche levato Tutta la terra In teoria Ho dimenticato Di mettere Le lanterne Ma vabbè Non importa Comunque Questa è la nave finita Poteva venire anche peggio Ma Forse poteva venire anche meglio Però vabbè Non ho mai costruito Una nave in vita mia Quindi Per ora Mi ci accontento Appena avremo Il legno scuro Magari cambiamo Il legno Non lavorato Con quello scuro Che secondo me Ha un effetto Molto migliore Quindi niente ragazzi Questa è la nostra nave Per questo video è tutto Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.